Benvenuti a tutti, qui è Jasmine per l'Ambasciata di Pace e iniziamo una nuova serie di video per le prossime settimane chiamata Conto alla rovescia dicembre 2012. È un momento molto interessante e sapete, se cercate in rete, molte persone dicono che noi davvero non sappiamo dove questo periodo ci porterà, ma come i Maya hanno profetizzato insieme a molti altri, è un momento di vera celebrazione per il fatto che stiamo completando un ciclo dell'essere. Alcuni potrebbero dire che ora ci stiamo muovendo verso una pura espressione di coscienza dell'unità, ed è una cosa che emerge anche da quello di cui siamo stati testimoni nel mondo finora, dalle tempeste che hanno creato grande perdita di potere a New York, per esempio di recente, a quello che è successo a quelle bellissime giovani ragazze in Pakistan che hanno detto no alla violenza con i talebani. Così tante altre cose di cui siamo testimoni. E la principale energia che sembra essere stimolata ora è un'energia di compassione. E questo sorgere della compassione nel nostro mondo sta creando dove si sta aggiungendo alla corrente di cambiamento che stiamo attraversando, che ci porta più verso la coscienza dell'unità sul pianeta Terra. Così, con i tempi profetizzati, come abbiamo sempre detto e altri hanno detto, è solo la fine di un modo di essere e l'inizio di un grande nuovo capitolo dell'espressione umana, in cui siamo più compassionevoli gli uni con gli altri e più ancorati nella coscienza dell'unità. Qualcuno dice che questo sta portando un cambiamento anche nei nostri modelli di onde cerebrali, permettendoci di accedere a diversi livelli delle nostre capacità intuitive, di essere un po' più creativi, perché l'energia della compassione tende assolutamente a stare nel cuore. Attraverso i miei viaggi negli ultimi due mesi, come alcuni di voi sanno, sono appena tornata in Australia, una delle cose comuni che ho capito dai miei amici di luce, che canalizzano i loro messaggi in ogni raduno a cui prendiamo parte, è che la compassione e tornare al cuore arriva insieme ad un'energia di gioia assoluta e celebrazione per tutte le meravigliose cose che succedono sul pianeta Terra, perché dal loro punto di vista il 95% di quello che sta succedendo sul nostro pianeta è davvero buono e se ci prendiamo il tempo di dare un'occhiata sul web, ci sono molti video positivi che parlano dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo, in un modo che beneficia la globalità qui. E noi sappiamo che i principali grandi media tendono a riportare semplicemente la sensazione di negatività su cose che non stanno andando così bene come potrebbero. E così i nostri amici di luce dicono per favore, prendetevi tempo per guardare a quanto c'è di buono e bello nel mondo per celebrare questo mondo e chiedono una cosa molto semplice. Prendetevi un momento e permettete ad una parola di arrivarvi ora in mente che rappresenti una virtù. Qual è la prima parola che arriva alla vostra mente? Forse è la virtù dell'amore o pace o gioia, ma questa è una parola che viene dalla vostra essenza, dal vostro sé energetico proprio ora. E la nostra essenza e i nostri amici di luce dicono in sostanza che uno dei più grandi servizi che possiamo fare per noi stessi, per gli altri e per il nostro pianeta è di concentrarsi nel fare esperienza di questa virtù in questo mondo, farla diventare più reale nel nostro campo di energia, lasciarla permeare attraverso di noi, irradiarsi attraverso di noi, per aggiungere questa frequenza come un altro livello nelle armoniche esistenti che vibrano nel nostro pianeta ora. Forse questo è tutto quello che dovete fare per un periodo, solo meditare in quella frequenza di amore, pace, gioia, irradiare, lasciarla fluire attraverso di te fuori nel mondo come una frequenza nutritiva, un po' di questo irraggiamento di questa virtù forse va ad aggiungersi al cambiamento dovuto alla sindrome della centesima scimmia e può contribuire a far girare il nostro mondo in un modo completamente diverso di operare. Un'altra cosa che abbiamo fatto nel nostro tour che abbiamo appena finito era di lavorare con l'intelligenza del campo quantico, scaricare diversi sistemi di agire che sono più di beneficio per ognuno nel nostro mondo. È stato divertente per me radunarmi con migliaia di persone diverse, in situazioni diverse, concludendo in Turchia, dove ci siamo concentrati sulla pace nel mondo il primo novembre e abbiamo condiviso il nostro lavoro con il mondo. Ed è stato fantastico vedere come il pubblico dicesse sì, sì, sì. Dite sì, siamo disposti a ricevere sistemi nuovi di agire nelle politiche, nell'educazione, nel sociale, per l'ambiente, per l'economia e a tutti i livelli di cui abbiamo bisogno ora, affinché noi operiamo per il bene più alto di tutti. E chiedete al campo di intelligenza quantica di lavorare con questo per scaricare questo sistema nel nostro piano ora. Quindi c'è molto che possiamo fare nei tempi che vengono e so che molti come me sono stati guidati in questi tempi che arrivano a stare in silenzio, a essere più in pace con noi stessi, stare più centrati nel cuore, riposare in silenzio e permettere a quello che serve di svolgersi e realizzarsi. Ma ricordate che il nostro processo di evoluzione è guidato dalle frequenze dominanti e ne abbiamo già parlato e tutto quello che deve svolgersi è questione di scienza dei campi energetici, che quello su cui ci concentriamo diventa reale. Quindi concentriamoci e irradiamo questa bellissima virtù che ci è stata data dalla nostra essenza e semplicemente vediamo come nei nostri momenti di silenzio e solitudine o qualsiasi cosa abbiate scelto di fare per i prossimi tempi, questo stia anche aggiungendo qualcosa nel campo quantico che è molto nutriente. Quindi qui e Jasmine condivideremo altre cose con voi nei nostri aggiornamenti futuri per questa serie Conto alla rovescia dicembre 2012.